Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo thriller psicologico mozzafiato su segreti di famiglia, passati scioccanti e bugie che raccontiamo a noi stessi per sopravvivere. La trama del libro La figliastra della scrittrice Nicole Trope, pubblicato dalla casa editrice Bucutur, è la seguente. La piccola Mellie Avoli, di soli tre anni, scompare in una nitida giornata invernale, e nulla è come sembra. È la telefonata che ogni madre teme. Sto salendo in auto dopo aver fatto la spesa. Mentre il motore si accende, squilla il telefono. È la mia figliastra, Shelby, che sta facendo da babysitter alla mia piccola miglie di tre anni. Sono solo andata al piano di sopra per un attimo, dice tra i singhiozzi. È sparita. Corro a casa e scopro la mia bambina dagli occhi azzurri scomparsa e il mio cuore strappato dal petto. Quando arrivano gli agenti di polizia, la storia di Shelby comincia a disfarsi. Cosa sta nascondendo? Poi ricevo un messaggio che dice, tuo marito non è chi pensi che sia. Potrebbe mentire? All'improvviso, la mia famiglia sembra composta da estranei. Ognuno ha un segreto, persino io. Nessuno sa perché sono tornata in ritardo dal negozio e la colpa che provo da allora. Quando la verità verrà a galla e tutte le nostre bugie saranno svelate, sarà troppo tardi per salvare la mia preziosa bambina? Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.